Aca suonare! Aca suonare! E voi avete avuta! Ma se non vedo le mani di tutti sul gruppo, manca voi garz, non mi viene voglia di suonare. Le vostre mani sono importanti perché scandiscono il ritmo del vostro suono. E se voi ci date le mani, ci lievi, e noi vi facciamo nascondere la cosa, ma anche laggiù. Vogliamo vedere le mani di tutti laggiù. Vai tu, voto! Grazie a tutti! Grazie a tutti! Grazie a tutti! Grazie a tutti! Grazie a tutti!